E sono partiti i cavalli di questa terza corsa prebio Nobel Decree, dallo steccato Talk2Air cerca di mantenere la corda con a centropista Superghiro e Lovia, in seconda linea troviamo Kaidu, Vicuna a centropista, Tenjaku per corsie interne e Elfire. Sono passati ormai 400 metri di corsa con Elfire e Superghiro all'avanguardia con per corsie interne Tenjaku che si prende la corda, a centropista troviamo Lovia e Vicuna, cerca spazio all'interno del gruppo anche Kaidu con Talk2Air ai suoi fianchi. Siamo ormai prossimi al paletto dei 200 metri conclusivi con Tenjaku che cerca di mantenere la leadership alla corda, sopravvanzata a centropista da Ottanese che con uno spunto imperioso prende il largo e va a vincere questo premio Nobel Decree. C'è lotta per il secondo posto con sul traguardo Kaidu che finisce fortissimo e dovrebbe aver strappato il secondo posto proprio all'OVA, Talk2Air e Vicuna. Vittoria dunque per il numero 3 di Ottanese, Mario Sanna in sella per la Stefano Bottitarf in questo handicap limitato, con al secondo posto abbiamo detto il numero 1 di Kaidu e al terzo, sempre dopo la valutazione del giudice d'arrivo, dovrebbe essere il numero 5 di Lovia. Grazie.